Stefano De Martino negli anni è cambiato moltissimo, dalle immagini di quando ha partecipato ad Amici si nota la differenza Stefano De Martino oggi è un conduttore di successo, personaggio di punta su cui la Rai ha deciso di puntare, affidandogli la conduzione di un programma tanto importante come Affari Tuoi Sono lontani i tempi da quando ha iniziato a muovere i primi passi nella scuola di Amici, nel video del 2011 sembra davvero un'altra persona Lo showman partenopeo chiaramente oggi ha un aspetto più adulto, del resto quando ha partecipato al talent di Maria De Filippi era soltanto un ragazzo e oggi è un uomo, che tra l'altro è cresciuto molto professionalmente Dalla foto del prima e dopo si nota la differenza.com' era prima Stefano De Martino, le immagini Per molti il cambiamento di Stefano De Martino non sarebbe dovuto solo agli anni che passano, ma lo showman avrebbe fatto ricordo ad alcuni ritocchini Dalle fotografie di quando era un ballerino di Amici a quelle di oggi si noterebbe una certa differenza Come si vede dal collage Stefano ha eliminato il neo che aveva al lato della bocca e ha fatto un ritocco alle orecchie, eliminando l'effetto leggermente a sventola Due cose che tra l'altro lui stesso ha sempre ammesso di aver fatto, ma per le malelingue il conduttore avrebbe ceduto ad altri ritocchini nel corso degli anni C'è chi sostiene che abbia fatto qualcosa alla bocca e agli zigomi e fin anche al naso I presunti ritocchini di Stefano De Martino è un argomento che è stato spesso al centro del gossip, lui stesso ospite di Francesca Fagnani a Belve ha ironizzato sul fatto che fosse tutto rifatto La giornalista gli chiese cosa avesse fatto, riportando un commento di Jonathan Cascenian e lui, senza dire cosa si sarebbe rifatto, risposte, ho un buon rapporto con la chirurgia estetica, poco se fa stare meglio Parole, quelle di Stefano De Martino che lascerebbero intendere come il conduttore non neghi categoricamente di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica Ad ogni modo la sua bellezza è indubbia, l'ex ballerino di Amici piace tantissimo e ha fascino da vendere Oltre a essere un bel ragazzo è anche molto talentuoso e i numeri che sta registrando ad affari suoi lo dimostrerebbero Una cosa è certa quel giovane ballerino di Amici, oggi conduttore di successo, il pubblico lo apprezza molto Grazie a tutti!